Il prossimo 15 settembre la Gaudella sarà pronta ad ospitare la tradizionale festa della Maria Dolorata, una festa che da circa mezzo secolo fa parte della tradizione di questo territorio e che ci presentano Orazio Chirico e Francesco Traquiglio che sono parte del comitato della festa della Dolorata. Buongiorno a tutti, io volevo semplicemente dire che insieme a noi fanno parte di questo comitato due sorelle, le sorelle Pizzolla e comunque per noi grande orgoglio e piacere che ogni anno a settembre ci ritroviamo per venerare la nostra santa patrona della zona qui della Gaudella, anche se tengo semplicemente a dire che noi non siamo un comitato organizzatore di feste ma quantomeno siamo degli agricoltori che venero la Madonna Dolorata ormai da tanti anni e che comunque negli ultimi anni grazie all'impegno e alla collaborazione di tanti sponsor che credono in noi, al grande supporto da parte dell'amministrazione comunale pure, siamo arrivati a portare la nostra festa, inizialmente partiva da festa rionale poi a un livello un po' più grande come comunque avrete anche onore di vedere in futuro. Un programma particolarmente ricco quest'anno di festeggiamenti sia religiosi che civili? Quest'anno come programma si svolge in questa maniera, la mattina abbiamo la celebrazione alle 11, poi abbiamo la benedizione dei mezzi agricoli e poi nel pomeriggio c'è la processione che si svolge verso le 17, presieduta poi a rientro dalla Sua Eccellenza Revidentissima il Monsignor Pietro Maria Fragnell. Al rientro c'è la volata e il saluto ai fedeli fuori la chiesa, poi subito dopo c'è la messa svolta da padre Antonio insieme con il vescovo, al termine poi giunge il programma civile, incomincia il programma civile con Occio De Santis, il programma è da una vita che faccio questa vita, e poi volge al termine con lo spettacolo dei fuori pirotecnici curato dalla detta valente. Tra le novità di quest'anno anche la collaborazione di Vivica Stellaneta che seguirà la processione in diretta streaming. Sì, per noi è motivo di grande orgoglio, poi stiamo sfruttando le nuove tecnologie, internet, e con questo spero di poter raggiungere insieme a tutti i membri del comitato i fedeli della Gaudella che vivono fuori, che comunque in estate sì sono qui in vacanza, però la nostra festa si svolge a settembre e sono già ritornati alle loro abitudini, al loro lavoro, alle loro case, e allora pensiamo che comunque con l'aiuto di streaming, con Vivica Stellaneta, internet, si possa arrivare dappertutto e ci auguriamo che comunque i nostri fedeli, i fedeli della Madonna dolorata, che vivono fuori, seguono, possano seguire questa processione alla nostra festa, insomma, la festa in onore da parte nostra, in onore della Madonna dolorata qui alla Gaudella.